Fanno sconvolta dall'omicidio di Anastasia. Terremoto parte la rimozione della ciminiera Molaroni. Stabilità della scuola Olivieri escluso il trasferimento degli studenti. Al liceo Marconi una palestra intitolata ad Alfonso Ford. Ci inviti a cena da domani Rossini TV a tavola con i suoi telespettatori. Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale. Rossini News sul canale 80. In questa edizione andiamo subito a parlare dell'omicidio di Fanno e partiamo mostrandovi subito le immagini dei sigilli dell'abitazione di via Trieste a Fanno dove fino a pochi giorni fa viveva Anastasia Alasceri, 23enne fuggita dalla guerra in Ucraina che ha trovato la morte nella nostra terra dove si stava integrando. Come vi abbiamo raccontato ieri Anastasia è stata uccisa dal marito che l'ha colpita coltellata e l'ha rinchiusa in una valigia abbandonata nelle campagne fanesi di Villa Giulia. Un omicidio che ha sconvolto la comunità di Fanno dove Anastasia si era integrata come cameriera e come insegnante di pianoforte. Drama nel dramma quello di un bambino di appena due anni ora orfano di mamma e col padre rinchiuso nel carcere di Bologna, città in cui è stato arrestato mentre era in fuga alla stazione. Il bambino ieri è stato accudito nella caserma dei carabinieri di Fanno e attende l'arrivo della nonna materna dall'Ucraina in attesa di quelle che saranno le valutazioni del Tribunale dei minori di Ancona. Intanto si attende ad ore la convalida dell'arresto del 42enne egiziano marito di Anastasia. Cambiamo argomento, siamo al settimo giorno di sciame sismico sul nostro territorio nonché è al settimo giorno di controlli da parte dei vigili del fuoco. Ben 43 gli edifici dichiarati inagibili fra le province di Pesaro e d'Ancona. A Pesaro il caso più eclatante è quello dell'instabilità della ciminiera Molaroni di via Luca della Robbia che ora sarà rimossa. Vediamo. Settimo giorno di sciame sismico che poco dopo la mezzanotte ha rialzato la sua intensità registrando una nuova scossa di magnitudo 3.5 con l'epicentro confermato a largo delle nostre coste. Settimo giorno anche di controlli serrati dei vigili del fuoco che hanno superato i 1200 sopralluoghi e hanno dichiarato inagibili 43 edifici fra le province di Pesaro Urbino e Ancona, 23 nell'Anconetano e 20 nel Pesarese. Città di Pesaro in cui i casi più eclatanti sono la chiusura ai fedeli della chiesa dei Cappuccini e la chiusura di via della Robbia con evacuazione di una trentina di persone, molte delle quali ospitate all'hotel Cesar di Viale Trieste. Spada di Damocle su via della Robbia è la ciminiera dell'antica fabbrica di ceramica e molaroni sulla quale il comune ha effettuato le verifiche con la soprintendenza che ne ha scongiurato vincoli. Dunque con l'accordo del soggetto privato proprietario dell'immobile si è dato il via libera alla rimozione cominciata questa mattina con la messa in sicurezza del tetto. I lavori che sono presi questa mattina si metterà in sicurezza prima i velux e i condizionatori, tutto quello che c'è sul tetto perché la ciminiera è alta più di 20 metri quindi è una struttura che magari vista da qua ha una percezione ma da dietro sarà tutta un'altra percezione. Da giovedì mattina presumibilmente inizieranno le operazioni di smontaggio della ciminiera e i mattoni verranno in qualche modo non smaltiti ma sistemati in un deposito del centro operativo per poi pensare che cosa fare in un secondo momento e noi contiamo almeno per quello che ci hai detto la dita in una decina di giorni di riuscire a mettere in sicurezza tutta l'area e di permettere alle famiglie di rientrare a casa. Diciamo che qui abbiamo diverse famiglie coinvolte, alcune sono residenti in città altre no, alcune hanno trovato alloggio presso amici e parenti, una ventina le abbiamo sistemate invece in una struttura alberghiera della città. Smontando l'antica ciminiera se ne andrà anche un reperto di archeologia industriale iconica per il quartiere nonché un simbolo della tradizione ceramista della città. Questo rappresenta ancora l'uso della legna quando si infornavano le ceramiche con la legna dopo si è passati al gas e all'elettricità. Diciamo che questo è l'ultimo simbolo dell'Ottocento perché la fabbrica è stata fondata nel 1880, 142 anni che è in attività. Questo è l'antico simbolo di ciò che rimane di questi antichi usi della terra, dell'acqua e del fuoco quando il fuoco ancora dominava la ceramica e ne dettava la buona o una cattiva riuscita. A poche centinaia di metri un'altra ciminiera è risultata inagibile dopo i controlli. Quella dell'ex manicomio che ha portato alla chiusura al transito di via Massimi a pochi passi dalla biblioteca San Giovanni in questo caso però non ci sono famiglie evacuate. È solo però un esempio del moltiplicarsi di danni che si rilevano con le progredire dei controlli. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha già stimato danni per oltre 20 milioni di euro e hanno oltrato richieste di stato di calamità a regione e governo. Se si considerano abbiamo un paio di chiese inagibili, palazzi storici inagibili e ieri pomeriggio abbiamo sgomberato ed è pronta l'ordinanza già per sgomberare altre due famiglie in strada l'Adriatica. L'altra sera sono state sgomberate altre due famiglie in strada Panorami Cardizio, più le dieci persone che erano state messe in struttura dopo la prima scossa. I vigili del fuoco stanno facendo un lavoro straordinario che però non si sviluppa nell'arco di pochi giorni ma sarà un lavoro lungo e man mano che andiamo avanti purtroppo pensiamo che ci siano altre situazioni di criticità. Il terremoto ha generato anche diverse inquietudini per quanto riguarda la stabilità degli edifici scolastici. È il caso dell'Istituto Olivieri di Pantano. Ieri vi abbiamo mostrato il presidio dei genitori davanti alla scuola dopodiché il caso è stato discusso con urgenza dal Consiglio Comunale di Pesaro. Vediamo allora quello che è emerso in questo prossimo servizio. Nella mattinata di ieri una trentina di alunni della scuola Olivieri sono rimasti a casa come voluto da genitori che hanno più di un dubbio sulla stabilità dell'immobile di via con falonieri già ammalorato prima dello sciame sismico di questa settimana. Genitori che lo hanno manifestato con un sit-in apparecchiato per chiedere chiarezza dopo l'incontro dell'8 novembre col comune che ha avviato una perizia tecnica ulteriore sulla stabilità dell'edificio. Perizia i cui risultati non saranno però disponibili prima di gennaio. L'insicurezza percepita dalle famiglie ha così portato nel Consiglio Comunale di ieri sera a produrre una mozione d'urgenza a firma dei consiglieri Marchionni, Gambini, Redaelli, Andreolli, Dall'Aste Malandrino una mozione che invita a valutare il trasferimento degli alunni ad altro edificio in attesa di verifiche ulteriori. Il desiderio è oltre a comprendere cercare di veicolare il messaggio più chiaro possibile alle famiglie e soprattutto chiedere anche la possibilità di velocizzare nel procedimento delle nuove perizie che sono state incaricate valutare qualora se ne rendesse la necessità, quindi qualora ci fosse una reale esigenza, lo spostamento di queste classi anche in maniera temporanea durante i sopralluoghi che verranno fatti durante questo periodo in cui nuove relazioni tecniche vengono redatte. Io credo che evitare l'allarmismo ma cercare di dare trasparenza, chiarezza e soprattutto rassicurare le famiglie con documenti alla mano che comprovano la reale situazione dei luoghi sia fondamentale e sia anche un dovere. La mozione è stata respinta col voto contrario di 17 consiglieri su 7 favorevoli, mozione sulla quale l'assessore Pozzi ha argomentato i doveri di trasparenza che reputano quella scuola sicura proponendosi ad ulteriori occasioni di chiarimenti con le famiglie. Ci siamo impegnati ad effettuare un ulteriore approfondimento, un ulteriore approfondimento che nell'ultimo incontro, quello che si è tenuto all'8 di novembre, ci siamo impegnati ad anticipare quei tempi, viste le preoccupazioni, proprio per cercare di tranquillizzare quelle che sono delle preoccupazioni comprensibili ma non fondate. Ci sono oggi tutte le condizioni per dire che quella scuola non è in una situazione peggiore rispetto a quello che è un dato. Oggi il quadro generale dell'edilizia scolastica di questo paese, non di Pesaro, dell'Italia in generale, se lo rifacciamo a quelle che sono le normative sismiche attuali, le scuole che rispondono alle normative sismiche attuali sono il 7%. Questo non è un dato certamente di cui andare e non è neanche un dato sulla quale questa amministrazione non sta facendo nulla. Rispetto alla mozione, se fossi un consigliere, sinceramente rifacendomi alle sue richieste, quindi a quella di rispondere con chiarezza, noi abbiamo cercato di farlo nella massima trasparenza e nella massima disponibilità. L'abbiamo fatto, come dicevo, all'occasione dell'incontro che si è tenuto in quest'Aula, all'occasione dell'incontro che è stato promosso dal dirigente scolastico nel Consiglio d'Istituto dell'8 di novembre. Siamo disponibili insieme anche all'assessore Murgia a partecipare anche a un'assemblea con tutti i genitori perché si faccia chiarezza e la chiarezza lo si fa nei modi e nelle sedi giuste e non lo si fa con dei picchettini davanti a scuola con i giornalisti, ma lo si fa anche con documenti come questo. Il terzo punto nel quale chiede di individuare delle soluzioni alternative, noi ci rifacciamo a quelle che sono le informazioni che ci sono, che ci consentono di dire che la scuola oggi è sicura ed è agibile. Su questo mi rifaccio a quello che era l'appello che ha fatto il Sindaco alla responsabilità e quindi ad affidarsi a quelli che sono dei professionisti che in questo momento hanno la qualifica per poterci dire cosa e come comportarci. A Pesaro è stata installata vicino alla stazione ferroviaria la torre di telefonia alta 30 metri concessa dal comune alla società Iliad. Un'installazione che chiude quindi il capitolo di una battaglia dei residenti di Soria mobilitatisi dalla scorsa primavera per dirottare altrove questa torre inizialmente prevista nel loro quartiere. C'è una nuova torre che dal parcheggio della stazione si alza troneggiando a fianco al cavalca ferrovia. La vedete alle mie spalle è stata infatti issata da ieri la torre di telefonia, possiamo dire la ormai famigerata antenna 5G che nei piani iniziali doveva sorgere nel quartiere di Soria nello spicchio verde tra lungo foglia via Nobiliore e via Donzelli. ipotesi che nella scorsa primavera scatenò l'accesa protesta di residenti che quella maxi antenna proprio non la digerivano. Non la volevano piazzata in mezzo alle loro case, tra l'altro di recente edificazione, non la volevano perché tenuti all'oscuro del progetto e perché attanagliati dai mille dubbi sugli effetti per la salute pubblica di quella simile installazione. Dubbi che il comune fugò con una serie di incontri formativi con esperti medici scientifici, ma il comitato nato per dire no all'antenna e sostenuto anche da associazioni quali Lega Ambiente Italia Nostra arrivò a una raccolta firme che superò i mille firmatari alla petizione. A fine estate si è arrivati ad una mediazione fra comune, comitato e società Iliad, è stata abortita la collocazione di Soria e dirottata sul parcheggio della stazione dove in questi giorni si sta completando l'assemblaggio. Qui ruba solo un paio di stalli e evidentemente crea molti meno malumori. Comitati di cittadini che però restano vigili perché resta in piedi l'ipotesi di un'altra installazione di torre di telefonia nel quartiere di Montegranaro Muraglia, quartiere che al pari di Soria nello stesso periodo sollevò analoghe insurrezioni di popolo. Una partita questa ancora aperta dove si cerca una soluzione più collinare per conciliare un piano di rete mobile del comune che prevede l'installazione di ben undici antenne dello stesso genere di questa alla stazione. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Questo è il numero che potete utilizzare con il servizio WhatsApp per inviarci immagini, foto, video, anche testo per le cose che non vanno nel vostro quartiere o nella vostra città. Le foto che vi mostriamo sono state inviate da un nostro telespettatore e documentano un abbandono di rifiuti pericolosi contenenti di Eternit nella chiusa di Ginestreto non lontano dal crossodromo. Un abbandono che è già stato denunciato alla Polizia Municipale e ai carabinieri forestali che ora provvederanno alla rimozione. E noi chiaramente verificheremo che questi rifiuti vengano rimossi al più presto. Il liceo scientifico Marconi oggi ha inaugurato una nuova palestra di bodybuilding dedicata ad Alfonso Ford. Uno spazio realizzato grazie all'impegno dei suoi studenti come possiamo vedere in questo prossimo servizio. Lo sport, il suo potere e i suoi valori. Lo sa bene il liceo scientifico Marconi di Pesaro che da anni investe nella pratica sportiva abbinata allo studio, considerati elementi fondamentali per una crescita culturale sana dei suoi studenti. E sono proprio gli studenti ad aver portato a termine la nuova palestra di powerlifting e bodybuilding che è stata inaugurata questa mattina, la prima di questo genere in un liceo sportivo del territorio italiano. Uno spazio che verrà usufruito da tutti gli studenti del liceo nelle ore di lezione di scienze motorie, ma anche da chi durante il pomeriggio vorrà partecipare ad un corso di powerlifting in lingua inglese, tenuto da un madrelingua dove poter elaborare contemporaneamente più skill. Il legame con lo sport cittadino, quindi il basket e la VL miscelato con l'inglese, ha portato il liceo Marconi a dedicare la nuova palestra all'ex giocatore bianco-rosso Alfonso Ford, uno degli atleti più amati da Pesaro. La nostra idea da sempre è di lasciare dei luoghi che possano diventare dei luoghi dove i ragazzi possano fare esperienza, in modo particolare ci piace sempre di più pensare che questi luoghi siano progettati dai ragazzi, quindi noi non abbiamo fatto altro che scrivere il progetto, ma in realtà il progetto è stato tutto organizzato e ideato dai nostri studenti con un'esperienza di alternanza scuola-lavoro nella quale loro hanno ideato la palestra, hanno fatto le ricerche rispetto anche a tutti i preventivi che potevano essere fatte sulle strutture e dopo noi abbiamo scritto un progetto che ha vinto un premio a livello ministeriale che è stato quindi quello che ci ha permesso concretamente di acquistare questi attrezzi. La pittura di tutta la struttura è stata fatta da loro, il progetto grafico da uno studente del liceo Marconi, quindi è proprio bello vedere i ragazzi che interagiscono tra di loro al di là dell'attività concreta che poi andremo a fare qui, che sarà appunto di tipo sportivo, pensare anche che il progetto stesso diventi un'attività esperienziale che possa aiutarle anche nel campo del management e della gestione delle attività. Abbiamo iniziato dividendoci i compiti, il primo innanzitutto è stato il ridipingere tutta la Palestina perché inizialmente adesso non era il top, però abbiamo dovuto scrostare un po' tutto e ripitturare. Seconda cosa, poi dopo abbiamo messo i pavimenti che sono arrivati insieme a tutta l'attrezzatura che abbiamo ordinato saggiamente tutti insieme, per l'appunto non l'ho voluto fare da solo, ho chiamato dei collaboratori. Avevamo uno spazio relativamente limitato ma volevamo puntare molto sulla qualità e quindi abbiamo selezionato due marche made in Italy per rimanere comunque nel territorio, abbiamo scelto attrezzi di alta qualità per poter svolgere tutti gli esercizi che noi ritroviamo più fondamentali in palestra. Ho collaborato con dei giovani e condividendo i nostri interessi, le nostre future professioni, le nostre aspirazioni per creare un progetto che poi sarà possibile da utilizzare per altri giovani. Il risultato ottenuto dal Marconi è la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato dieci anni fa con l'inserimento dell'indirizzo sportivo, allora promosso dal professor Damen e accolto con grande entusiasmo dal collegio docenti. L'idea appunto anche di comunicare l'importanza che lo sport non sia qualcosa per chi non ha voglia di studiare ma sia un elemento formativo per chi vuole investire di più nella sua vita. L'Assemblea degli Enti Fondatori del Rossini Opera Festival ha confermato Ernesto Palassio come sovrintendente del ROF per il quadriennio 2023-2026. Al ROF del 2016, come direttore artistico, come direttore dell'Accademia Rossiniana, Palassio è il sovrintendente del festival dal 2017. L'iniziativa Altro Giro della Onlus Gulliver torna a donare, e questa volta lo fa, a Trebbia Antico, frazione che ospita da sabato 12 novembre la diciottesima Little Free Library della città posizionata nel Parco Esuli Giuliano Dalmati. La mini biblioteca, libera e accessibile a tutti, è un progetto che promuove la lettura, la condivisione del piacere di leggere e allo stesso tempo il senso di comunità dove ognuno potrà prendere un libro lasciandone un altro a disposizione dei lettori. E' ufficiale, martedì 13 dicembre, il Museo archeologico liveriano riaprirà ufficialmente le sue porte al pubblico, come anticipato nell'anteprima dell'allestimento che vi abbiamo mostrato lo scorso primo agosto. L'allestimento permanente potrà essere ammirato ora nella sua interezza grazie al completamento della sala di Novilara con l'isola centrale dove sono esposte le sepolture della necropoli. Completati in queste settimane anche i servizi ai visitatori, la sala dell'accoglienza, la biglietteria, i servizi igienici. La data scelta per l'inaugurazione non è casuale, visto che coincide con la presenza a Pesaro dei rappresentanti delle dieci città finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2024 che saranno riunite per partecipare alla masterclass finale del progetto Cantiere Città, promosso dal Ministero della Cultura. E continuiamo a parlare di cultura perché c'è tempo fino al 20 novembre per visitare la mostra Sguardi sul Cinema al Palazzo del Collegio Raffaello di Urbino, mostra organizzata dal gruppo ERA con il patrocinio del Comune di Urbino. Dallo scorso 13 ottobre sono stati oltre 1200 i visitatori che hanno ammirato i volti delle star del cinema italiano, realizzate interamente con rifiuti recuperati da Massimo Troisi ad Anna Magnani fino a Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci, Diego Abbattantuono, Sofia Loren. 28 quadri per altrettanti ritratti tutti rigorosamente realizzati con scarti industriali. Le opere sono state realizzate da SCART, progetto del gruppo ERA che da oltre 20 anni trasforma i rifiuti in opere d'arte, promuovendo attraverso il linguaggio universale del bello una diffusa cultura del recupero e dell'uso consapevole delle risorse. È stata presentata a Saltara di Colli al Metauro la nuova declinazione degli itinerari della bellezza di Confcommercio. Si chiama Itinerario musicale, la proposta nata per mettere in rete le tradizioni, gli eventi e i personaggi che dal nostro territorio hanno fatto la storia della musica nazionale. Da 5 sono diventati 18, presto probabilmente saranno 20 e vanno tutti a tempo di musica. L'itinerario della bellezza mette in rete sempre più comuni, grazie a Confcommercio Marche Nord che continua a sfornare un'idea dopo l'altra. L'ultima in ordine di tempo è l'Itinerario musicale, presentato nei giorni scorsi a Saltara di Colli al Metauro. L'intento è quello di continuare a far leva sulle tradizioni e sugli eventi del settore per promuovere l'intero territorio. Abbiamo anche immaginato che la musica, che è un momento aggregante per le nostre comunità e che ha nel nostro territorio dei grandi personaggi e dei grandi eventi, meritasse un nuovo itinerario, un nuovo percorso turistico. E quindi l'Itinerario musicale, lungo l'Itinerario della bellezza, vuole raccontare la storia delle nostre comunità, la storia dei grandi eventi che si svolgono nei nostri comuni e che hanno una grande valenza turistica. Penso a Rossino Opera Festival, all'Urbino Jazz. Oggi Itinerario musicale fa tappa con l'Almetauro per presentare questo itinerario musicale. Saltara ha una tradizione musicale molto importante, data dalla sua banda che ha origini antichissime. Già dal 1900 è attiva sul territorio. In più, nel periodo estivo viene fatta una manifestazione nel borgo di Saltara, denominata Saltarusa, che valorizza tutte le attività musicali e quindi la musica in generale, oltre il borgo ovviamente. Anche questa volta vengono utilizzati tutti gli strumenti del marketing, tra cui l'immancabile guida in cui trovano spazio le eccellenze musicali di Fano, Pesaro, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cogli al Metauro, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, San Lorenzo in campo, Sasso Corvaro Auditore, Tavuglia e Terre Roveresche. Al centro del progetto anche la vita di quei personaggi che partendo dalla nostra provincia hanno fatto la storia della musica. Al di là dei famosissimi Rossini, Renata Tebaldi, Rizzo Ortolani di Pesaro, ci sono tanti personaggi che meritano di essere ricordati, a cominciare da Ottaviano Petrucci, che è il Gutenberg della musica ed è di Fossombrone, oppure ogni comune ha una storia da raccontare. L'obiettivo condiviso da tutti i partner del progetto è quello di unire turismo e cultura affinché la provincia di Pesaro Urbino diventi sempre più un polo attrattivo. È una delle missioni del credito cooperativo. Sono banche locali molto attenti a quello che si cresce, nasce e si sviluppa nel territorio, per cui non potevamo non essere presenti e dare il nostro contributo perché questa manifestazione riuscisse al meglio. Tutto quello che fa cultura, tutto quello che è turismo, naturalmente accresce il territorio nella sua dimensione. Sappiamo che il turismo ad oggi, se non lo rivalutiamo, l'Italia è piena di tanti posti bellissimi, però devono essere rivalutati, messi alla conoscenza di tutte le persone e posti in una certa evidenza. E questo è il volano che può far ripartire tutta l'attività turistica e di compenso pure l'attività lavorativa di tutto l'indotto. E poi c'è l'aspetto sociale. La musica è infatti un importante collante tra i diversi territori, oltre che uno dei cuori pulsanti delle comunità che li abitano. La musica è un momento di aggregazione sociale. Ogni comune ha un coro, una banda, un'associazione culturale. Tanti giovani e meno giovani che si avvicinano alla musica e questa rappresenta la vita delle nostre comunità. Pensare di raccontarne la storia, promuoverla anche dal punto di vista nazionale come evento turistico, è un modo anche per rafforzare le radici e la vita delle nostre comunità. Per questo noi crediamo di aver fatto un lavoro unico, non solo un itinerario turistico, ma anche un momento di valorizzazione delle realtà più importanti delle nostre comunità. E concludiamo quest'edizione del nostro telegiornale con Nicoletta Tagliabracci e Paolo Pagnini, coloro che vedrete protagonisti del programma domani sera, ci inviti a cena. Il programma nuovissimo, targato e ideato da Rossini TV, che vi andiamo a raccontare in queste prossime interviste. Rossini TV sta cucinando un nuovo programma per i suoi telespettatori. Cucinando non è un verbo buttato lì a caso, in questo caso perché si parla di cena, si parla di programmi TV legati alle cene e legati agli inviti a cena dei telespettatori, a niente di meno che Paolo Pagnini e Nicoletta Tagliabracci. Sì, due noti mangiatori, due persone che vivono praticamente andando a cena a casa della gente, naturalmente è uno scherzo, ma la trasmissione non è uno scherzo, è tutto vero. È tutto vero, stanno arrivando, ma ne vogliamo ancora di più, tanti inviti per venire a cena o, ricordiamo, volendo anche a pranzo e noi arriveremo e poi staremo con voi. Staremo con voi e non verremo a mani vuote, quindi intanto appena arriviamo vi portiamo una bellissima bottiglia offerta da Terremare, che è una delle enoteche più fornite con dei vini di altissima qualità e poi pranzeremo o ceneremo insieme parlando della cucina, delle ricette, di tutto quello che può essere così argomento di conversazione piacevole a tavola. E poi ci saranno anche altri premi, vero? Sì, sì, ci sono altri premi e abbiamo uno sconto del 50% su una cucina Tomassi Galanti e un buono per due persone per andare a mangiare al ristorante. Noi veniamo, voi ci offrete la cena, noi rilanciamo e offriamo noi a nostra volta la possibilità di andare a cena da qualche parte. L'abbinamento con Nicoletta non è casuale perché lei è ambasciatrice del buon mangiare, dopo poi lo dirai meglio te, mentre io non mi intendo niente, io mangio e basta. Per cui l'abbinamento è vincente, è assolutamente vincente. Con me fate bella figura comunque, con lei, e insomma, cosa devono preparare? Qualcosa di speciale? Solo quello che vi viene meglio, non ci sono vincoli, la piena libertà, non c'è bisogno di rimanere all'interno della regione, della nazione, potete sbizzarrirvi o comunque utilizzare tutti i piatti più belli e più buoni che sapete preparare perché non saremo qui per giudicare, ma solamente per passare un po' di tempo in compagnia. E dunque, ci inviti a cena, sarà il titolo del programma, ma sarà anche un'esortazione ai telespettatori perché il programma dipenderà proprio da questi inviti. Esatto, dipende dagli inviti, noi li aspettiamo, come dico, già ne sono arrivati, ma ne aspettiamo altri e sottolineiamo ancora una volta che non c'è gara, non c'è valutazione, non c'è voto, c'è la piacevolezza di stare a tavola insieme a fare due chiacchiere. Ovviamente il fulcro della chiacchierata sarà legato a quello che mangeremo, però poi potremo anche divertirci a parlare di qualcos'altro in base a quello che ci verrà, a come ci verrà. E naturalmente tutto questo poi verrà montato, verrà gestito dalla nostra produzione e diventerà un programma sicuramente tra i più seguiti dai telespettatori di Rossini TV. Paolo, allora ricordiamo che per ringraziare dell'ospitalità il ristorante che vi dà la possibilità poi di ricevere questo buono per un pranzo o per una cena è il cocktail bar e cucina di Via Passeri. Amici, mi raccomando, prendete nota del numero in sovrimpressione perché aspettiamo i vostri inviti. E allora mi raccomando non perdete l'appuntamento di domani sera con ci inviti a cena, intanto questa sera però c'è un bellissimo approfondimento alle 21.20 organizzato da CNA dove si parla di SOS Covid, imprese, tante iniziative, progetti per questa ripresa appunto in collaborazione con CNA. E poi l'informazione su Rossini TV tourna domani, sarò io con voi alle 7.20 in diretta sul canale 80 chiaramente e anche sulla pagina Facebook e anche sul sito e anche sull'applicazione. E vi ricordiamo ancora domani sera non perdetevi questa prima puntata di Ci Inviti a Cena, nuovo, nuovissimo programma di Rossini TV dove Nicoletta e Paolo visiteranno le case dei nostri telespettatori che avranno l'occasione proprio in un momento conviviale di raccontare le proprie ricette di famiglia. E allora andiamo a vedere come sarà il meteo per i prossimi giorni. Grazie e buona serata a tutti voi.